Uno scontro frontale ha causato la morte di due persone giovedì mattina nel materano lungo la provinciale 3 ex 175 che collega Metaponto a Matera nei pressi della Galleria dei Tre Confini in territorio di Pomarico. Nell'incidente sono state coinvolte due automobili con tre persone a bordo. Un uomo e una donna, due coniugi di circa 70 anni viaggianti sulla stessa auto, hanno perso la vita mentre la conducente dell'altra vettura, una ragazza originaria di Montescaglioso, è rimasta ferita e trasferita in codice giallo al Madonna delle Grazie di Matera. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118 con un'eliambulanza. In corso i rilievi per chiarire l'esatta dinamica del sinistro.